Buongiorno a tutti, benvenuti a Striscia alla Fragoletta, un salutone dal Mone e Cesco. Salute a tutti, buongiorno. Oggi, questa settimana, Cesco, cosa proponiamo qua alla Fragoletta? Ma non mi ricordo, ma i rimali da cortile, quella che abbiamo preso l'altro giorno. Ah, i rimali da cortile. E' selvaggina, eh, selvaggina con i vini, ai vini della Borgogna. Allora, rosby di cervo con frutti di bosco e gelatina all'americano. Buongiorno. Maccheroncini con ragù di cinghiale. Cinghiale o cinghiale? Poi, Cesco, tagliatelle a ragù di anatra. Anatra, ah, anatra. Ma no, è loca quella lì, è questa l'anatra. È questa, vedi? Germano Reale, anatra. Sbagliato, sbagliato tutti qua. Lugug di anatra, porcini finferli e chiodini. E chiodini. Arrostino da agnello con cipolle rosse al forno e purè di patate. Petto d'anatra al forno, sempre anatra è questa, con puntarelle gratinate. Coniglio in porchetta e per te il suo raciolo. La cioola, la cioola, la cioola. Sarà la viola. La viola. L'errore, abbiamo trovato l'errore. Corretti, la viola. La viola. E cosa avveniamo questi bei piatti? Come abbiamo detto, dei buoni vini della Borgogna. Allora, qui abbiamo... Chardonnay e di Pinot Nero. Wow. Cominciamo con un Bourgogne Blanc, Regnale del 2016. Un Merceau 2014 di Girardin. Ok, non c'è questo che io... Bourgogne Rouge 2015 di Favelet. Braviso. Cos'è? Omar de Chantelet. Omar de Chantelet 2015. Maricalli, 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 Maricalli. Allora, Scorton 2009, Bruncler. E finire, Charm-Chamberté Grand Cru 2007 di Galois. Galois, Galois. Come si dice? Galois, Galois. E se nova è Galois. Galois. Allora, qui abbiamo detto tutto. Quindi vi aspettiamo la fragoletta. Con la nostra striscia, la fragoletta. Dalmone e Cesco è tutto. Alla prossima. Come a tutti. Saluto. Ciao, 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 ciao.